In occasione di Espoelette 2018 un'attenzione particolare verrà posta al tema del dialogo con i territori in relazione alla realizzazione delle grandi opere pubbliche. Si parlerà in particolare della nuova procedura del dibattito pubblico e del ruolo degli amministratori e delle amministratrici. Il dialogo con i territori è fondamentale per la progettazione e realizzazione di tutte le politiche pubbliche, in particolare quando si parla di grandi infrastrutture che possono avere delle ricadute positive su un'area ampia ma sicuramente hanno degli impatti, dei costi e delle ricadute che possono anche essere negative sui territori. Quindi coinvolgere i cittadini, gli amministratori per ragionare sulle ragioni di un'opera e cercare di capire quali possono essere quegli interventi migliorativi di un progetto consente di avere alla fine di un dibattito pubblico un'opera più sostenibile normalmente e soprattutto progetti realizzabili e migliori dal punto di vista tecnico. Almeno questo è quello che dimostrano le esperienze italiane e internazionali. Per quanto riguarda il ruolo invece degli enti locali all'interno del decreto sul dibattito pubblico bisogna dire che sarà un ruolo fondamentale per tre ragioni. La prima perché gli enti territoriali, quindi regioni, comuni, città metropolitane saranno presenti con le loro rappresentanze all'interno della Commissione Nazionale per il dibattito pubblico. Inoltre i singoli territori verranno coinvolti nella realizzazione dei dibattiti che riguarderanno i loro territori, quindi avranno un ruolo attivo nel monitorare e nel guidare i dibattiti pubblici che interesseranno i loro territori e infine il ruolo delle amministrazioni è centrale perché potranno chiedere a loro volta di attivare la procedura del dibattito pubblico per tutte quelle opere che non sono comprese all'interno del decreto ma che possono creare conflitti sui territori.